Ciao ragazzi, è da un po' che non ci vediamo, sono a Times Square da Five Guys, non ho capitato da qua per caso perché Carolina che sta arrivando da dietro, mi sono in patatine piccole, poi è già arrivata piombata, guardate gente, stavo dicendo dove eravamo, spiegalo tu, sono da Five Guys, in un degli hamburger più buoni di Yarp, dopo Shake Shack ovviamente, stavo morendo per delle patatine, oggi è St. Patrick quindi Happy St. Patrick's Day, niente, ti ho sfigato tutta lei, ci vediamo tra poco che saremo al MoMA, Museum of Modern Art. Questo a me è il signor Charles Cary Johnson, cosa ha fatto? Mi ha appogliato e ha fatto la cena. Questa bedroom è molto minimal, dobbiamo parlare. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Buongiorno ragazzi, vi farei presentare per una nuova comprensione, cioè è un peso collegato con un filo, e la funerina è la guerra del corpo, del filo, del filo. Carolina, faccio mettere dentro la testa, dai! In pratica c'è la pizza, è la terza, il più grosso di una trattorezza di sogno, c'è cagato dentro, è diventata un'opera d'arte! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. La confezione stavamo vedendo che è bruttissima. Basta ci siamo fatti appunto il giro oggi al Mono perché era gratis. Vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacione e lasciateci un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. A presto.